Musica Prima edizione di Oratg, ben trovati, apriamo con la cronaca a Palermo. Questa notte è un uomo disabile, morto a seguito di un incendio in appartamento in Dauni Carabinieri per stabilire le origini del rogo. Aveva 57 anni, era disabile e non poteva muoversi dal proprio letto. L'uomo morto stanotte nel terribile incendio scoppiato all'interno di un appartamento in via Michele Cipolla, vicino la stazione centrale di Palermo. Quando a luna di notte diverse squadre dei vigili del fuoco sono giunte sul posto, hanno trovato l'abitazione posta al sesto piano di questo stabile, totalmente avvolta dalle fiamme. L'uomo rimasto vittima del rogo viveva in casa insieme alla madre di 87 anni. I pompieri, quando sono intervenuti, hanno trovato soccorso e messo in salvo l'anziana, la quale è rimasta lievemente intoxicata per aver respirato le esalazioni provocate dalla combustione. La donna, che dormiva in un'altra stanza rispetto a quella del figlio, situata vicino alla porta d'ingresso, non si sarebbe accorta delle fiamme. È stato durante le operazioni di spegnimento che i pompieri hanno rinvenuto il corpo senza vita dell'uomo. La vittima è stata trovata distesa sul letto, nella sua stanza. A lanciare l'allarme con una telefonata sono stati i vicini di casa non appena hanno visto le fiamme che uscivano da una finestra. Io sentivo, aprendo poi nella terrazza, c'era questo fumo, il cattivo odore che c'era. Infatti poi ci siamo allarmati e ci siamo presi tutti di paura, ovvio. È stato un bel po' comunque. Vedevamo tutto il fuoco, fumo, è arrivato fortissimo, sì, sì, sì. Però non sapevo che c'era qualche vittima, non lo sapevamo, si è scoperto dopo. L'intero edificio stanotte è stato evacuato. I vigili del fuoco hanno impiegato diverse ore per spegnere le fiamme. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che, poco prima del rogo, il 57enne, affetto da una grave disabilità, avesse chiamato il 112 preannunciando l'intenzione di appiccare le fiamme in casa per ragioni non meglio precisate. I carabinieri stanno indagando per accertare quali siano le cause dell'incendio. Una persona è morta, altre nove sono rimaste ferite durante un incidente stradale lungo la strada statale 626, Caltanissetta Gela, nei pressi di Capodasso, a perdere la vita un cinquantenne di Mazzarino, che era alla guida di una BMW che per cause in via di accertamento si è scontrata con un furgone a bordo degli extracomunitari, i feriti sono stati trasportati a Enna. Caltanissetta indaga la polizia stradale Nissena. Si sono svolti a Palermo i funerali di Giuseppe Labarbera, una delle vittime della strage di Casteldaccia. Applausi, dolore e tanta partecipazione. Stamattina per l'ultimo saluto a Giuseppe Labarbera, la più giovane delle cinque vittime, morte nel tragico incidente sul lavoro avvenuto il 6 maggio a Casteldaccia, c'era tutta a Ballarò, il quartiere nel quale Giuseppe è nato e cresciuto. Qui era ben voluto, in tanti lo ricordano come un bravissimo ragazzo. I migliaia hanno atteso il feretro, portato in spalla dai suoi colleghi, gli operai dell'AMAP, che indossavano le divise gialle. Tra fuochi d'artificio e applausi, il corteo ha percorso a piedi le strade dello storico mercato, fino a giungere dinanzi la chiesa del Carmine Maggiore, stracolma di fedeli, dove sono state celebrate le sequie. Un ragazzo buonissimo, molto buono, siamo tutti scioccati, siamo rimasti tutti con fatte lei, quello che vede, questa è la nostra amore che avevamo sopra questo ragazzo, che era un ragazzo meraviglioso. E lui è di qua, siamo tutti di qua e ci conosciamo tutti. A prendere parte le sequie il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, il primo cittadino di Casteldaccia, Giovanni Di Giacinto, e il presidente dell'AMAP, Alessandro Di Martino. Tanti gli amici e i parenti che, al funerale, hanno indossato le magliette con la foto di Giuseppe, padre di due figli, morto a soli 28 anni. Noi siamo qui per ascoltare la parola del Signore e domandargli cosa è successo. Eri assente tu, in questo momento tragico, ha detto padre Pietro Leta nel corso dell'Omelia, bisogna anticipare i pericoli che portano alla morte sul luogo del lavoro. Giuseppe è quello più vicino a noi, non è Gesù che ha abbandonato Giuseppe, siamo noi che siamo incapaci di garantire un lavoro dignitoso, un pezzo di pane. Ballarò è una grande comunità che ha abbracciato la famiglia di Giuseppe. Le parole del sacerdote. L'Istat ha diffuso i dati del 2022 per quel che riguarda la natalità e la situazione demografica. In Sicilia calo record dei nati nel 2022 rispetto ovviamente al 2021, ma a calo anche del numero dei residenti. Una flessione minima, ma è pur sempre un dato negativo. Diminuisce la popolazione residente in Sicilia, così come si rileva dall'accensimento chiuso al 31 dicembre 2022. 4.814.016 residenti, un calo rispetto all'anno precedente, alla 2021, di 19.313 persone. E quanto ha comunicato l'Istat, istituto che ha pure rilevato come siano le province di Palermo e Catania, ad aggregare il maggior numero di residenti per una percentuale complessiva tra Palermo e Catania, del 47,3% del totale dei residenti nell'isola. Si tratta di un mix di numeri che combina il saldo naturale con il dato migratorio interno, a cui si contrappongono in maniera a questo punto non sufficiente i valori positivi del saldo migratorio con l'estero e del cosiddetto aggiustamento statistico. Ma il dato di maggior rilevo probabilmente è quello che evidenzia come anche la Sicilia diventi sempre più vecchia. I nati nel 2022 infatti sono 36.810, meno 425 rispetto al 2021, ma il tasso di mortalità di contro è cresciuto alla 12,3 per mille, con un picco del 14,3 per mille registrato nella provincia di Enna. In Sicilia si registrano 637 morti in più rispetto all'anno precedente. L'età media si è innalzata rispetto alla 2021 da 44,9 anni a 45,2 anni e le donne continuano a tenere a distanza gli uomini saldando il 51,3% complessivo della popolazione residente a fronte dell'altro sesso ancora in minoranza. Ragusa e Catania sono le province più giovani, 44,1 e 44,2 anni di media, Messina ed Enna quelle più anziane, 46,7 e 46,5 anni di media. Il dato Istat rileva anche la presenza degli stranieri. Quelli censiti sono nell'isola 191.368 più 6.763 rispetto alla 2021, numero che raggiunge il 4% del complessivo della popolazione regionale, a questo punto formata da stranieri. Questi provengono da 164 paesi, prevalentemente dalla Romania, il 24% del complessivo totale. Cronaca, l'insaputa del proprietario ignote a Catania, avevano realizzato una serra di canapa indiana in un appartamento all'ultimo piano di uno stabile di picanello. A scoprirlo è stata la padrona di casa che ha avvisato i carabinieri che hanno scoperto nella manzarda una piantagione con numerose piante, alte quasi un metro, corredate da lampada alogena e aeratore. I militari hanno sequestrato i contenitori pieni di semi di canapa, foglie già essiccate, 16 dosi già pronte. I militari hanno trovato rinchiuso persino un cane meticcio che è stato affidato alle cure dei veterinari sul balcone. Con veranda hanno anche scoperto sei tartarughe di una specie protetta che sono state prelevate dai militari specializzati del corpo forestale dell'arma. Nasce a Messina il presidio Slow Food della pesca tradizionale nello stretto. L'obiettivo è quello di sostenere e valorizzare il lavoro dei pescatori locali, salvaguardando il patrimonio culturale e materiale di materiale della costa tra la Sicilia e la Calabria, contribuendo così a creare valore sociale ed economico per i prodotti ittici tipici del territorio, sotto il profilo della sostenibilità, della consapevolezza e del riconoscimento reale per i custodi del mare. Presentato stamattina il presidio Slow Food della pesca tradizionale nello stretto di Messina, che consentirà di promuovere la pesca selettiva e stagionale, variando le tecniche e gli strumenti, a seconda delle specie da pescare nel corso dell'intero anno. È un presidio che serve a tutelare l'integrità della nostra tradizione. Come si svilupperà, come interagirà con il territorio? È una cabina di regia complessiva, ripeto c'è una grande sinergia con Reggio Calabria, ho sentito il collega Falcomadà proprio per cercare di capire come dalla tradizionale caccia al pesce spada fino al prodotto che è veramente unico rispetto alle nostre caratteristiche, si possano creare quelle filiere produttive all'interno, ma anche all'esterno, dei nostri territori per fare comprendere come le unicità che noi abbiamo sono da esportare. Il quarto presidio Slow Food che interessa la pesca, abbiamo quelli del Golfo di Serinunte, quelli dei mascolini di Acireale, e questo qua sarà uno dei presidi della caccia e della pesca, quindi la pesca tradizionale del pesce spada con le feluche. Pesca che ovviamente equilibra un ecosistema perché il pesce spada pescato con questo sistema non viene isterizzata la carne, quindi è quasi una pesca, diciamo una caccia alla pari e ovviamente anche le tradizioni, cioè quindi mantenere queste tradizioni, la peculiarità di queste tradizioni che possono portare anche a un impatto socio-economico perché implementi la pesca turismo. Il presidio Slow Food si inserisce anche in un evento denominato il Mare Chiama, in programma al Monte di Petà di Messina, nella prossima fine settimana, dalla 17 al 19 maggio. Su richiesta della Procura della Repubblica di Catania, i carabinieri del Comando Provinciale hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro di beni del valore di oltre 3 milioni di euro finalizzato alla confisca emesso dal Tribunale di Catania nei confronti di Carmelo Militello, detto Avizza, pregiudicato ad Renita 51enne vicino all'Associazione Tomasello Mazzaglia. Toscano, si è motivo di ritenere che i beni siano il frutto di attività illecita, i militari hanno infatti evidenziato una notevole sperequazione tra il reale tenore di vita della famiglia e i redditi dichiarati. Le imprese sequestrate sono intestate a due figli di Militello Miriana e Nicolò. Si tratta della MM Logistic di Militello Miriana con sede ad Adrano e MN Trasporti con sede legale a Biancavilla, ma a Carmelo Militello di fatto ne disponeva direttamente malgrado fossero intestate i figli. E adesso andiamo a Giarre, che hanno temuto di essere rimasti chiusi dentro al cimitero perché bloccati in fila sulle loro autovetture, ma in realtà si trattava solo di un incolgo in strada. Chiusi per diverse ore all'interno del cimitero, soltanto dopo l'appello sui social la situazione si è sbloccata. Questo è quanto in un primo momento si era detto a Giarre, dove ieri, nel giorno della festa della mamma, qui al Camposanto, che si affaccia sulla via nazionale, è successo il panico. Se solo tutti avessero letto il post sino alla fine, si sarebbe fatta chiarezza sin da subito. La chiusura dei cancelli, come da disposizione a mezzogiorno, ma ieri, la quantità di visitatori è stata al di sopra delle previsioni e ancora la mancata apertura della vicina e più spaziosa area parcheggio hanno creato un mix esplosivo che ha paralizzato l'intero circuito. A raccontare quei momenti il custode che da solo si è ritrovato a dover gestire il caos, tanto da trattenersi oltre il consueto orario di lavoro. Io posso stare anche se in questi casi mi può stare un'ora in pieno, non è questo il problema. Il problema è che le macchine sono state anche qua, non si potevano muovere più, anche qua dentro. Il problema grosso è anche questo. C'è stato forse una disattenzione di fondo, ovvero quella di non aprire il parcheggio qui a fianco e fare una sorta di anello, un circuito che consentisse alle auto di defluire con più facilità? Quella sarebbe la cosa normale, organizzata, però quando si fa questo lavoro si deve essere le transende, le vicine urbane. Che non c'erano? Che non c'erano, io questo non c'erano. È successo quello che è successo proprio perché le macchine erano così troppe che non si sono incastrate solo all'uscita, si sono incastrate qua dentro. Qual è il problema? Fra cui anche le persone a volte si insultano anche fra di loro. Ricordo che sono una persona sola io, chi viene qua e chiede informazioni, non posso stare neanche là sotto volendo, perché qua chiedono, fanno le tombe dove sono, io non mi posso, siamo sempre uno solo, perciò ho visto la situazione qua, mi sono messo là a cercare di fare del mio meglio, ho fatto uscire tutte le macchine, come a solito mi faccio il giro se qualcuno ancora è qua dentro, non c'era nessuno, perciò nessuno può dire assolutamente che sono rimasti qua dentro. E adesso si corre ai ripari per evitare il replay. Il cartello che annuncia la festa del Santo Patrono, Sant'Isidoro Agricola, dopo domani, 15 maggio, a chiare lettere, ricorda gli orari di fruizione al pubblico. Lutto nel mondo del giornalismo e dell'associazionismo del terzo settore, morta a Pistoia Luigi Bardelli, fondatore e direttore di TVL Pistoia, presidente nazionale di Corallo, l'associazione che riunisce le emittenti radio-televisive cattoliche e che aderisce a Eranti Corallo. A metà degli anni 70, fondò e diresse TVLibera Pistoia per dare parola agli ultimi emittenti quasi a copertura regionale che ben presto divenne una delle più qualificate della Toscana. E adesso il calcio, grande attesa a Catania in vista dell'esordio dei rossazzurri nei play-off promozione sul campo dell'Atalanta Under-23. Archiviato già da qualche settimana il deludente campionato di Serie C, pur con la perla della vittoria della Coppa Italia di categoria, il Catania si appresta ad affrontare i play-off promozione proprio in virtù della vittoria nella competizione tricolore. Domani dibutto sul campo dell'Atalanta Under-23 con gara di ritorno sabato prossimo alla Massimino. Fede incrollabile tra i tifosi, pur nella consapevolezza di un percorso assai difficile per puntare alla Serie B. Cerchiamo di onorare la maglia, giocare il meglio possibile. Se possiamo riuscire a passare questo turno, poi ci sarà il ritorno a Cibali con 20.000 aspettatori, che già si sa. Noi non abbiamo niente da perdere, ormai abbiamo tutto da guadagnare. essendo che già ci siamo salvati, come si diceva, che la squadra andava un po' male, però ora i ragazzi hanno capito che Catania è sempre Catania. Indossare la maglia del Catania è un onore per tutti. Domani è importantissimo, almeno portare il risultato positivo. Potremmo essere ottimisti, anche un pareggio, e poi ce la giochiamo qua a Cibali. Però sicuramente, quello che mi sento io, si sa sono tifoso, però mi sento che Catania vince domani. Penso che ce la fa il Catania comunque, perché c'è un'esperienza sempre di giocatori che fanno la differenza nel Catania. Speriamo bene, loro sono ragazzi, corrono, però non c'è un'esperienza. Speriamo che possiamo giocare questa catta qua. Si potevano pescare di meglio. Potevamo pigliare a Juventus o a Triestini, diciamo che a Baudab, però meglio così. Se va avanti dobbiamo affrontare tutte quelle più grandi, no, dico più grandi, più forti che ci sono. Se vogliamo anche andare in abito, frati, non mi abbatterà tutti. Senza il direttore sfettivo non si può avere una squadra di Catania. La partita di ritorno prevista per sabato prossimo inizialmente alle 20.30 potrebbe slettare alle 21 per esigenze televisive. Fin qui l'attesa a Catania per l'avvio di questi play-off. Stasera però vi invito a seguire su Rey TV a partire dalle ore 21 sala stampa condotta da Umberto Teghini che dovremmo avere in collegamento dalla redazione di Sicra. Presse, ecco qui Umberto. Allora, quali i temi di oggi per una puntata anche in questo caso particolarmente attrezzata si parlerà di calcio e non solo calcio? Come di consueto, grazie per lo spazio all'interno del telegiornale. Sala stampa la trasmissione dello sport dunque ritorna stasera puntuale come sempre alle 21 su Rey TV domani la replica ve lo ricordo alle 12.25 e poi chiaramente ci trovate anche su tutti i social. Dunque lo spareggio del Catania la prima gara di andata del turno nazionale la gara contro l'Atalanta Under 23 di Francesco Modesto sarà il primo test importante per i rosso-azzurri anche noi abbiamo sentito i tifosi proveremo a capire qual è la forza della formazione orobica proveremo a far fare dei pronostici anche ai nostri ospiti in studio tra questi Fabio Fiatlito e ancora Vittorio Strianese direttore sportivo del Paternò fresco di promozione in Serie D ci sarà anche il collega nonché scrittore Salvo Pappalardo e insomma avremo modo di analizzare la vigilia di questa partita con il Catania che giocherà pensate in uno stadio di poco più di 2000 posti come Capienza con 400 tifosi che potranno assistere alla gara ma dovranno essere tutti tesserati 400 ovviamente di parte rosso-azzurro le ultimissime per quel che riguarda la formazione che schiererà Zeuri e poi insomma vedremo qual è anche la prospettiva ricordando come è stato già detto nel servizio che abbiamo visto che appunto il 18 cioè sabato prossimo ci sarà il ritorno allo stadio Massimino e poi chiaramente avremo spazio anche per gli altri sport parleremo di basket con il bilancio della serie C unica parleremo di pallanuoto con la grande salvezza della nuoto Catania e ci occuperemo anche di ipodismo con un evento di solidarietà in programma a San Gregorio tra gli altri ascolteremo anche i due ballerini manchi e coreografi Gioi e Reina tutto questo stasera a Sala Stampa a partire dalle 21 immancabilmente su Rey TV grazie per lo spazio buon lavoro a voi la linea grazie a te Umberto per questo collegamento dunque alle 21 su Rey TV Sala Stampa ma alle 20 e 30 sempre su Rey TV vi ricordo l'intervista l'assessore delle attività produttive della regione siciliana Editha Maio candidato di Forza Italia alle europee sarà infatti l'ospite di questa sera dell'intervista parleremo del ruolo dell'Italia nel Parlamento di Strasbourg e dell'importanza di andare a votare per questa tornata elettorale l'ultima ha osservato l'esponente del governo Schifani prima delle elezioni del 2027 e su cui il risultato si stabiliranno importanti equilibri per il futuro non c'è in ballo nessuna leadership dice ai nostri microfoni appunto Tamaio ma l'appartenenza ad un partito Forza Italia che non si schiacci troppo a destra collegato in diretta il collega di Live Sicilia Anthony Di Stefano Tamaio ha anche spiegato il perché dello pseudonimo Di Maio che ha fatto inserire nella lista presentata dal suo partito appuntamento dunque alle 20 e 30 in replica domani alle ore 23 con l'intervista con Testudio da Filippo Romeo e noi adesso ci fermiamo termina infatti qui il telegiornale questa prima edizione con in regia Paolo Cocco e Manuela Musumeci non ci resta altro che darvi appuntamento alla prossima edizione di Oratg quella di questa sera delle ore 19.45 grazie per la vostra attenzione buon proseguimento di pomeriggio a voi tutti grazie per la vostra attenzione